diverse persone volevano avere più informazioni più spiegazioni il filtro equalizza perché lo usi come lo usi e così via allora ho pensato visto che ha suscitato interesse generale di farvi vedere un piccolo tips di come potete usare il filtro equalizza ora guardiamo questa immagine questa è una bella immagine non ha problemi è stata ripulita non deve essere lavorata a livello di pulizie o di altre cose in nessun modo è una bellissima immagine per i miei gusti o per determinati scopi se volete potrebbe essere un po più contrastata ora è evidente che photoshop ha una miriade di funzioni per creare più contrasto avete filtri a disposizione avete le curve avete i valori tonali avete camera raw abbiamo tante funzioni questo è il bello e il brutto di photoshop per fare una cosa avete tantissime strade però su un'immagine così fare questi interventi magari richiede un flusso di lavoro e un tempo che non non è necessario investire e dove posso trovare una soluzione più veloce ok io voglio farvi vedere questo tip che su questa immagine funziona bene e funziona bene su tutte le immagini che hanno bisogno appunto solo di un po più di tono e di contrasto utilizzando appunto questo flusso di lavoro veloce allora guardate intanto control command j vedete duplico il livello ok andiamo a vedere i nostri canali di colore allora abbiamo il canale rosso e qui vedete perché l'immagine è così chiara abbiamo un canale rosse preponderante molto chiaro il canale verde è più equilibrato vedete e poi il colore blu e qui c'è più contrasto il tutto è più scuro anche la pelle in questo caso sceglierò il colore blu perché mi riduce là dove è possibile è questo forte bianco allora control o command clicco su questo canale clicco di nuovo sul mio canale composito rgb torno nei miei livelli e con questa selezione attiva vado sotto immagine regolazione e scelgo equalizza ok e qui vi si apre questa finestrina dove c'è scritto equalizza solo area selezionata oppure l'intera immagine in base all'area selezionata noi vogliamo equalizzare solo l'area selezionata confermo con ok e adesso voi vedete l'immagine molto scura control o command h oppure se andate sotto visualizza vedete potete nascondere vedete la selezione e guardate adesso vado sotto modifica dissolvi ok la dissolvenza è attivata non trattandosi di un filtro perché equalizza non lo trovo sotto i filtri ma è rimasta sotto immagine è una di quelle funzioni antiche in photoshop che non è mai stata sviluppata e che generalmente non la si usa anche invece vedrete che per soluzioni veloci di questo genere può essere davvero interessante però appunto se volete effettuare delle modifiche dovete entrare subito subito appena avete fatto l'effetto o la modifica con equalizza in modifica dissolvi perché se fate un'altra azione prima perdete il dissolvi allora abbiamo dissolvi e qui abbiamo a disposizione l'opacità e i metodi di fusione guardate qui avete tantissimi metodi di fusione che potete usare e provare ok in base al tipo di risultato che volete ottenere a me piaceva molto colore brucia perché mi dà questo bellissimo dorato vedete sulla pelle ora magari abbassa un po l'opacità la porta a un 60 per cento vedete e già qui vedete si nota un po la differenza oppure magari a un 70 confermo con ok guardate il prima e il dopo vedete che ho dato un tono dorato bellissimo alla pelle guardate le labbra vedete come sono diventate più rosse più intense sempre però con un tono naturale possiamo ancora aggiungere la ciliegina sulla torta guardate uniamo questi due livelli in un nuovo livello maiuscolo control alt più e maiuscolo command opzione più e per coloro che lavorano col mac ok e possiamo trasformarlo col tasto da destro del mouse in un oggetto avanzato e applico vedete accento a passaggio accento a passaggio mi dà la possibilità di creare di definire un po meglio vedete il contorno adesso però attenzione guardate cosa è successo qui abbiamo nascosto la selezione però è rimasta attiva io però qui non voglio una selezione dunque qui riempiamo vediamo un po col colore bianco di primo piano alt backspace vedete dunque tolgo qui vedete la maschera perché non voglio qui una maschera cambio metodo di fusione in sovrapponi e guardate qui abbiamo o tutto ben contrastato adesso lo portiamo al 100 per cento oppure cosa che preferisco applico premendo alto per opzione una maschera che nasconde il mio accento a passaggio e solo con un pennello colore bianco vedete accento l'intensità sugli occhi guardate il prima e il dopo vedete che è più intenso adesso guardate qui il risultato questa è la nostra immagine originale che quando l'abbiamo visto abbiamo detto è bella è luminosa bella ma guardate il risultato quanto è più morbido più bello come colori e l'abbiamo fatto con due passaggi applicando equalizza con la dissolvenza e applicando giusto qui vedete per gli occhi un leggero accento a passaggio dunque un flusso di lavoro velocissimo con un risultato secondo me davvero bello